Benvenuti a tutti ragazzi, qua come sempre il vostro Caninja Bleschi parla e siamo qua di nuovo in compagnia di Silvestro Alfan, saluta! Ciao! Siamo tornati dopo oltre due mesi sull'epica sfida del Rolico... Ma lo sai, quando ci sono io che devo fare qualcosa, c'è una direzione di un mese prima che fai il secondo episodio di qualcosa. E non perché le cose facciamo bene, perché è uguale, solo che non ci abbiamo voglia. Perché non ricordi le regole, Fran, questo che sono passate, idee, idee, ideologiche? Bisogna fare gol solo con il tasto R3, no, col tasto quadrato, scusatemi, ho... R4, no, vabbè, triangolo quadratico, ok, gol solo col tasto quadrato. Ma io ero di lato a Silvestri che non c'è L4, Frank, dov'è? Ok, quando vuoi puoi partire. Non mi dare ordine. Hai gol di testa a Vagono, però sento un quadrato. Esatto, che si nota la differenza. Si nota perché non sono molto potenti, sono un po' moshi. E comunque qua già è impossibile scena di testa, pensa con un quadrato. Quasi con commettenti. Ma che cazzo vuoi? Dai, fai la battuta Porto Gallo, Porto Pecola. Mi è venuto in mente. Ci trovi un cazzo di avversario? Vabbè, dovremmo aspettare tre anni. Incredibile, allora, cosa devono fare? Cerca. Io non ho parole, eh? Non ho parole. Cambiamo, cambiamo, cambiamo il capo squadra e troviamo una partita. Questa volta ci metto a caricare un video. Passa. Ti ho visto. Ci sono, Cristiano. Eh, Cristiano Ronaldo. Ronny. Ronny. Tutto tu, Ronny. Fai una moda, fai qualcosa. Cosa fai? È la passata. Non è colpa mia, tira. Cosa fai? Cosa fai? Goal. Mettiti in pausa. Metti, vai su in portazione di control. Sì, metti. Aiuto, cross, manuale. Aiuto, cross? Ah, è vero, manuale. È la generata del seto. Adesso fai il MoGal sicuramente. Indietro? Indietro poi si facevano? Sì, ok, me l'ho dato. Allora, se facciamo gol, vale, eh? In portazione che vale. È sempre con quadrato. E poi è comunque difficile perché sarà un tiro a palombella, Mosha. Sempre i doppi sensi. Un tiro a palombella show, ho capito. Mosha. Ah, Mosha. Mi piace fare i doppi sensi. Io amo fare i doppi sensi. Tu sei un doppi sensi. Non è il gol, però. È giallo a cosciendì. Oddio. Le shabu. Le shabu. Tutto tuo. Rigore. Giallo a cosciendì. È cosciendì, attenzione. È cosciendì. Sì, ma come fai di avere il rigore? Hai detto col portiere. Ah, è vero. Di pallonetto era. Di pallonetto. Ma non lo fa il pallonetto. Vabbè, ci pochiamo. Chirobasta. Sono io, bene. Dov'è il portiere? No, abbiamo un portiere. No, come si chiama? Fati dice. Patrissima. Eccolo. È l'anti-gross, certo. Non quello. La cosa nerd. C'è l'anti-gross. Complimenti. Vai. Oh. Sono questi laci illuminati. Vai. Vai. No. Di la cara. Di la cara. No. 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 È la natura del secolo. Incredibile. Il lancio illuminato. Tira. Oh. Oh. Oddio. 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 Tira banana. Tira banana. Tira banana. Tira banana. Lascalo. 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 Vabbè, non so come cazzo fare sapere che chi è che non è un tiro Oh ma si vede che è con un quadrato, scusi Ma cosa? Quella ha tirato da fermo Mamma mia Lo stadio è giunta Ho un motinho di testa Oddio che buco che c'è C'è stato te? Sì, questo è veramente brutto Wewe tie Smackdown Ho fatto la capiglonna Vai, go Danny, go Danny, go Danny, go Danny, tira Che scarsa, che scarsa, che scarsa Vabbè che stiamo vincendo e se vinciamo finisce la secca Che c'hai ragione Faccio della merda la scarsa No, no, non è goggiando Comunque l'ho buffata, stiamo dicendo che stavamo vincendo Non so Gibbs ha segnato Sì, 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 sì Oh Incredibile Oddio, hai citato Mario Non è qui Oh, oh, ti ho vinto, ti ho vinto Mamma mia, 2-1 Incredibile Ti amo Non è andato vincente, dici Non giocano più Mi sono resi Vai dimmi Long shot Long shot Non è andato dall'aria Oh, no No, no Che adesso sia fuori il gioco Io, era fuori il gioco ma è un gol etico, se lo facevo Hai fatto la lavora Sì, non l'hai vista No, ho visto qualcosa di strano No, non l'ho visto No, l'ho sbagliato No, no Senti BOOM Sì, lo so Questi qua come cazzo chiudono, vado in avanti L'exquitter Aspetta, l'exquitter non devo proporre una cosa? No Ah, cambiano portati Ah, beh Hai ragione Perché le cose cambieranno? Non so perché non ci ho pensato prima a sto camion I tifosi non sono scaramantici Gioiscono come se la gara fosse già finita Il calcio è strano, imprevedibile Ma credo che stavolta difficilmente avremo delle sorprese Come fa a tirare da lì? Allora, io sento anche il commentatore mi fa tipo Non dovremmo avere delle sorprese Non mai avrete finita Grazie Ho paura, Franco Ho tanta paura Ma no, ma cosa vuoi che succede? Siamo a novantesi Dammi Ok Siamo solo a novantesi Aspetta Fermalo Oh, che cazzo Nooo Non lo faccio posta È il bug No Non ti posso credere No Oddio È colpo del teleconista Cazzo fai? Cazzo faccio? Cazzo faccio? Cazzo faccio? Che la passa No, perché la passa Ti picco Ma è pintato di tasti No, no, no Sto scherzando No Abbiamo vinto Ti giuro che non l'ho fatto apposta Ti giuro che non l'ho fatto apposta Su qualsiasi cosa Sul gatto Voglio Il conto Dovantesimo Dovantesimo Allora È perché hanno chiamato il portiere È una mossa pratica Non ci posso credere Anch'io È colpa del cazzo di teleconista Lo metto nel video Lo metto nel video Lo metto nel video Lo metto nel teleconista Il cazzo La partita successiva Non vuoi che succeda Affio Sei lì quando c'è il portiere Che tipo Le voleva rinviare Io ho fatto X Per passarla via Solo che non l'ha presa Il difensore Ma ha preso al comando Il portiere Che l'ha passata addosso Il difensore Che ha fatto un impallo E poi ha battuto Tu il portiere ti è dato a suo a caso Cosa dovevo fare? Dovevi capire Che l'ha scrittato Poi voglio che metti la nota Sull'1-0 Quello che iniziavi a schillare Ma tanto abbiamo vinto Sono proprio scarsi Cheat Adios 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 Revelation Paolo Il risetto.